Missioni di Incoming, progetto di internalizzazione di impresa, propone un nuovo appuntamento alla Mezzia Terme. Ospiti dell'Union Camera in collaborazione con la Regione Calabria, delegazioni di cinesi e francesi. Dieci paesi esteri che hanno raggiunto il nostro territorio nel corso delle ultime settimane per visitare aziende locali e commercializzare prodotti made in Calabria. L'idea è stata quella di sfruttare lo specchietto dell'allodo di Expo 2015 per far sì che le delegazioni, una volta venute in Italia, possano venire in Calabria e quindi andare a visitare direttamente le imprese del territorio e rendersi conto dell'opportunità di commercializzare i prodotti di un'elevata qualità come sono quelli calabresi, anche se di nicchia, quindi certamente non tali da poter competere con grandi distribuzioni, però comunque possono trovare collocazioni molto opportune in diversi gourmet, ristoranti, centri commerciali diffusi sul territorio. La Calabria ci crede e va oltre puntando con iniziative di crescita commerciale al dopo Expo. Lo abbiamo fatto selezionando con un bando sei giovani, sei professionisti, con un buon percorso di studio alle spalle, conoscenza delle lingue straniere e in questo momento si stanno occupando dell'accompagnamento delle delegazioni straniere in Calabria con la finalità di favorire quanto più possibile l'incontro con il sistema delle imprese. Dopo la fase dell'Expo questo lavoro continuerà per garantire questo collegamento nel tempo e per arrivare al risultato concreto di mettere in atto programmi di sviluppo per queste aziende. Grazie a tutti.